Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, garanzia di cittadinanza e di pari opportunità se ne ha parlato stamattina alla Sala dei Notari di Perugia in un convegno promosso da Edi Cicchi Assessora ai Servizi Sociali, Edilizia Pubblica, Famiglia e Pari Opportunità del Comune di Perugia insieme al Consorzio Auriga e all'Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità Osservatorio che è stato istituito sulla base proprio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oggetto appunto del seminario La Convenzione ONU, approvata nel 2006 e ratificata dall'Italia nel 2009, ha segnato un punto di svolta decisivo nel percorso spesso tortuoso della piena realizzazione e tutela dei diritti delle persone disabili promuovendo l'attuazione e l'implementazione di politiche realmente inclusive per la pari dignità di tutti gli esseri umani Lo scopo del seminario è infatti quello di partire dai principi ispiratori della Convenzione per discuterne e fare il punto su quanto sia stato concretamente attuato e quanto ci sia ancora da fare Già nel 2015 l'amministrazione comunale di Perugia, con una delibera di giunta presentata da Edicicchi sulla base dei principi della Convenzione, ha dato vita a un tavolo interassessoriale come strumento di raccordo nel coinvolgimento dei vari settori dell'ente e nel contempo a un tavolo interistituzionale che riunisce periodicamente soggetti istituzionali e organizzazioni delle persone con disabilità Il vero obiettivo però, per il quale il seminario farà da base di partenza è la stipula di un vero e proprio protocollo di intesa tra enti ed istituzioni che ponga nero su bianco le azioni da intraprendere e gli impegni da portare avanti Una giornata coordinata da Liana Cicchi, presidente del Consorzio Auriga con gli interventi di Raffaele Goretti, presidente dell'Osservatorio e Stefania Guerralisi, ideatrice del metodo della globalità dei linguaggi Sì, oramai dall'inizio anche della mia amministrazione abbiamo lavorato affinché fosse recepita anche dall'amministrazione comunale di Perugia la Convenzione ONU e i diritti sulla disabilità e abbiamo lavorato in questa direzione che è una direzione di lavoro inclusiva nel senso che noi dobbiamo includere sia tutti coloro che a qualche titolo fanno delle attività nei confronti delle persone con disabilità e chiaramente le persone con disabilità stesse Allora, il tema della disabilità oggi deve essere visto come pari opportunità quindi non solo l'area dei servizi sociali che è importante ovviamente quando c'è una disabilità grave ma oggi le persone con disabilità chiedono di poter vivere una vita all'interno della città quindi dal lavoro alla cultura, lo sport, il tempo libero e allora insieme alle altre istituzioni, insieme alla regione, insieme all'osservatorio regionale insieme alla scuola dobbiamo costruire dei percorsi affinché si crei davvero questa piena inclusione delle persone con disabilità insieme alla scuola dobbiamo costruire dei percorsi affinché insieme alla scuola dobbiamo costruire dei percorsi affinché